Sergio Migliore figura che è molto importante per il Tarantasca, che ha fatto rientro proprio in società. Allora io le chiedo cos'è per lei il Tarantasca, cosa significa, cosa rappresenta? Dopo già un passato al Gem Tarantasca, la società vecchia di prima, ho dovuto lasciare per motivi miei personali e sono tornato l'anno scorso perché il richiamo è stato troppo forte, il presidente mi ha voluto a tutti i costi e io ho dato l'ok perché per me questa piazza è importante e poi quello che per me era molto importante è che si ricominciava da zero a ricostruire una società e questa è la cosa che mi ha spinto a dire ok, vengo. Parliamo un po' della prima squadra del Tarantasca che disputa il campionato di terza categoria, si può fare un piccolo bilancio, come sta andando la stagione fino a questo punto? Ecco il bilancio al momento è molto positivo, però partiamo dall'anno scorso, l'anno scorso quando io sono arrivato la squadra era stata costruita molto velocemente perché c'erano stati due anni di lockdown per cui reperire giocatori da zero non era facile, poi tutti insieme quest'anno abbiamo fatto una squadra competitivissima secondo noi, noi speriamo, almeno io in prima persona, di arrivare a fare i playoff perché la squadra è stata costruita per quello. Per me la prima squadra è proprio un fiore all'occhiello della società dove cerchiamo di dare il massimo, avere il massimo e ai ragazzi non gli facciamo mancare niente, tutto quello che ci chiedono cerchiamo di darglielo il più possibile e l'obiettivo, come dicevo, è arrivare ai playoff e io spero che ce la facciamo. Parlando invece di settore giovanile, ecco perché secondo lei un genitore dovrebbe portare il proprio figlio o la propria figlia a giocare a calcio qui a Tarantasca? Esatto, noi siamo in una, geograficamente parlando, siamo in un punto non strategico perché intorno a noi ci sono diverse società a Blasonate, dal Centallo, al Villa Falletto, al San Benigno, al Busca, tutte queste società qua. Per me un genitore deve portare il bambino a Tarantasca nella società perché non tutti possono arrivare a queste società che io elencavo prima, ma il nostro obiettivo è quello di far giocare tutti i bambini. Per cui al momento non dico che sono degli scarti delle altre società, però sono bambini che hanno bisogno di imparare proprio il calcio e abbiamo, da quel lato lì, abbiamo nel team, abbiamo degli allenatori che hanno passione, che hanno voglia e si vedono i risultati. Noi puntiamo oltre il campionato con i bambini, puntiamo molto sui tormei dove abbiamo molta visibilità e quest'anno ci ha permesso di portare alla società Juventus due bambini del 2015 e per noi è una cosa troppo bella perché vuol dire che stiamo lavorando in un certo modo. Gli allenatori si dedicano con passione a fare quello e pian pianino si stanno arrivando i risultati. Ecco, siccome siete una società che lavora in prospettiva e con progettualità, state già, anche se presto state già pensando all'estate, a qualche iniziativa, cosa accadrà? Guarda, proprio in questi giorni abbiamo programmato già tutta l'estate, ma addirittura stiamo già programmando la stagione prossima. Però per l'estate abbiamo in cantiere diverse cose di cui faremo una giornata dello sport, faremo, in questi giorni ne stiamo parlando, faremo uno stage con tutte le annate che abbiamo dal 2016-2017 al 2009, dove lo stiamo organizzando, però siamo molto ambiziosi quest'anno, vogliamo portare a Tarantasca, non dico il fiore all'occhiello, però qualcosa che attiri questi bambini e attiri le famiglie.